buongiorno amici eccomi qui un video speciale questa mattina di cui voglio parlare questi pochi minuti con voi sono fuori sul terrazzo a prendere un po di sole un po di aria un po di aria fresca approfittiamo che di questo dicempre un po strano per prendere un po di sole allora ragazzi sono qui per dirvi che domani siamo nella vigilia di ue inter una partita che comunque sono una partita tutta a vedere a gustare sarà molto accesa sarà molto accesa e io da dai miei giocatori vorrei uno spettacolo perché spalletti si affida a loro e difatti si affida specialmente al muro della difesa dei frai e screener quindi comunque credi comunque in tutti i giocatori perché i giocatori per spalletti sono importanti ma andiamo avanti sarà una partita difficile perché è una partita difficile anzi secondo me è la partita più difficile che noi andiamo a giocare sono preoccupato certo paura non ne ho però preoccupazione ce n'è perché è normale comunque noi siamo una pazza inter siamo una pazza inter ti puoi aspettare tutto puoi fare schifo con le squadre di serie b puoi fare schifo ma poi ti fa la partita della vita ti fa la partita comunque che ti fa cambiare idea di un momento l'altro quindi analizziamo un po certo c'è da analizzare ben poco perché comunque la juventus molto più forte pure che mancano due tre giocatori comunque sa come deve sostituirli una partita che comunque sarà bella però che non mi vengano a dire e ve ne mettiamo tre ve ne mettiamo quattro ve ne mettiamo due l'anno scorso pure così fu l'anno scorso pure così fu ve ne mettiamo tre a quelli ci dovevano asfaltare quella è finito 0 a 0 finito finisce la storia mi non ricordo una partita che abbiamo fatto abbiamo fatto cagare contro la juventus ma non mi pare che mi ci siano partite quando perché siamo mi pare che siamo stati l'unica squadra a mettere tre gol a segno contro la juventus in casa loro con la doppietta di milito cioè non mi ricordo una figura di merda del genere una figura di merda non mi pare che ovviamente come ho detto sono sono molto più superiore di noi noi avremo anche dei buoni giocatori ma loro hanno dei campioni però bisogna anche dire che la juventus bisogna dire che da tutto per vincere onestamente ma l'inter fa ancora di più l'inter anche l'impegno in champions ma non penso che spalletti stavolta fa il turno spalletti farà il possibile per vincere questa partita certo non si sa se mancherà naingolana non so se ci sarà se no perché non si sa non si sa però caro spalletti io non studio non voglio non voglio andare sul tatticismo non vuole andare su questo ma fammi il piacere di una cosa sola levami per esicità lì levalo 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 non farlo giocare per favore non farlo giocare detto questo Icardi ha la fiducia nella sua inter ha fiducia nella sua squadra Icardi è sempre andato a segno contro la juventus è una bella partita comunque con Ronaldo contro Icardi quindi raga incrociamo le dita non mi evita a dire cominciamo tre a zero me ne mettiamo tre me ne mettiamo due quello perché caso mai se dovesse succedere il contrario il contrario no che ve ne mettiamo due tre pure che ve ne mettiamo uno e basta non mi fate vedere i ventini eh io alzo le mani se perdiamo noi io alzo le mani eh me lo dico già da adesso ma se perdete voi non mi fate vedere cioè io ve lo dico comunque non so spalletti cosa userà comunque quello che usi usi non interessa perché quello che conta è giocarla bene giocarla bene perché comunque la juventus va anche se dico la formazione ho visto più o meno sarà manzo che c'è un alto di bara quindi sarà una batosta proprio ma non significa che noi siamo scarsi certo non siamo come come la juventus per scarsa di di non siamo come come la juventus però però non significa che noi siamo scarsi metteteli in testa dal mio punto di vista se devo dare un pronostico non so darvelo cioè ve lo dico da ora da intervista non so darvelo a parte i pronostici io non li ho fatti perché li ho fatti la volta scorso con i miei due amici giocatevi quelle lì che quelle lì valgono per questa quindicesima giornata detto questo comunque spalletti non ha paura è normale cioè comunque anche la allegri ci teme perché allegri dice che l'inter è forte quelli quindi allegri anche ci teme però bisogna anche dire che bisogna anche dire che spalletti ha studiato bene l'avversario anche se non c'è poco da studiare secondo me perché comunque tu giochi contro la juventus è forte basta non c'è niente da dire non c'è niente da fare io la penso così però però bisogna dire però bisogna dire una cosa ragazzi vi ricordate l'ultima partita che ci fu contro la juventus noi giocammo in casa non ricordiamoci quelle parti da lì perché noi abbiamo giocato in casa stavamo facendo una partita brillante mai come quella volta e noi giochiamo in dieci per tutta la partita per tutto il secondo tempo dalla metà del primo tempo fino alla fine della pari giochiamo in meno e non ci stavano capendo niente e poi tacchete tacchete l'arbitraggio ha fatto i suoi e va a favore loro allora io in questa partita voglio serietà voglio la massima serietà voglio che si disputi una partita con arbitraggio 50 e 50 giusto deve essere un arbitraggio giusto perché deve essere una partita bellissima deve essere una partita tutta da vedere da gustare perché l'arbitraggio è anche importante che ragazzi il mio pensiero io v'inter non dico chi vincerà non mi interessa ma non so chi vincerà non so però una cosa posso dirla credo nei miei giocatori credo nella mia inter ci credo tanto la mia analisi più meno è questa è forte noi non siamo scarsi abbiamo una bella difesa abbiamo un ricardi che segna abbiamo anche un credito abbalde che segna quindi ragazzi è un po difficile fare un pronostico come la vedo io come la vedo io è una partita difficile perché non è facile è una partita comunque che andiamo a giocare a torino sarà un po complicato sarà un po complicato perché certo se andiamo a vincere mamma mia che festa che faccio faccio una festa faccio una festa non ho mai avuto l'occasione di fare una festa davanti a voi mai però non mancherà non mancherà mo l'altra cosa il nostro cara Samoa che era il vostro giocatore che è stato svincolato ed è stato dato all'inter che l'inter che l'inter l'ha comprato non venissero a dire i tifosi lì allo stadio di fischiare perché io già so come sono fatti perché dipende dal fischi qua e là è calcio è sportività è un gioco il calcio fa parte della vita il calcio comunque è bisogna rispettarlo non è che tu mi vai a fischiare il giocatore perché ha cambiato squadra cioè è un po tutto da penso che la pensate come me quindi ragazzi Juve Inter sarà una partita tutta da vedere tutta da gustare difficile penso da entrambe le parti perché è difficile da entrambe le parti perché io mi metto in mezzo cerco di vedere l'Inter e la Juve non a parte qualche infortunato non si sa se ci saranno in Golan non lo so io spero di sì ma non lo so però ragazzi noi siamo l'internazionale FC Milano con questo chiudo il video e nella gioia e nel dolore e all'interno giro d'amore iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like e ci vediamo in un prossimo video che sarà domani sera a mano grazie a tutti